dietro c'è pure le parole che mi sono presi non so sulla linea e fa tutto bene e poi e qui so che ho un'emozione particolare Mirko è difficile accettare quando si passa così vicino si è è stato un piccolo sfogo insomma un po' che cerco di fare un bel risultato e comunque complimenti a Cima e che oltre a dando la beffa non sono deciso di fare il secondo come è stato questo finale? Molto nervoso, avete visto alla fine il peloton tornare si però ci avevamo detto che stanno arrivando a forte velocità e abbiamo provato insieme ad andare d'accordo comunque alla fine noi siamo stati bravi e sono un po' di ramarico ecco tutto qua. Mirko che cosa non ha funzionato oggi? negli ultimi metri è che ho detto piuttosto che che ci prenda il gruppo faccio terzo è che non ho fatto neanche quello e alla fine l'ho giocata su un partito lungo sapevo che ero lungo però ho voluto provare per fare il podio per la squadra ecco e solo che non è venuto neanche quello grazie ecco ecco